Beriflip è nata dalla volontà di quattro soci, quattro professionisti di portare un po' di gentilezza e un po' di altruismo nel mondo del web dei social. Beriflip è una piattaforma per fare ricevere regali a distanza in tempo reale all'interno di attività convenzionate. Tramite una mappa sulla quale sono geolocalizzati utenti e attività commerciali io posso scegliere un'attività preferibilmente vicina al destinatario del mio regalo e inviare in tempo reale un regalo a questa persona che riceverà un codice sul suo telefono con il quale entrando in questa attività ritirerà anche subito, anche all'istante, quello che io ho deciso di regalarle. Poco meno di due anni fa abbiamo fondato una start-up innovativa che si chiama Exogam. Siamo incubati da circa un anno all'interno dello spazio attivo di Lazio Innova di Latina e adesso tramite ovviamente gli strumenti che mettono a disposizione gli incubatori di impresa ci stiamo muovendo ovviamente per accelerare al massimo la crescita della piattaforma. Beriflip rappresenta berri ovvero il frutto che per noi simboleggia il regalo e flip è il movimento che nella nostra immaginazione fanno tutte queste fragole, quindi tutti questi regali saltando praticamente da una parte all'altra del mondo. Insomma questa è la nostra prospettiva, la nostra visione. Ma diciamo che il principio di reciprocità che poi si studia tanto anche in marketing è proprio alla base delle relazioni create da Beriflip sia tra utenti che con le attività commerciali. La presenza delle attività commerciali sulla piattaforma punta molto su questo perché se io con la mia attività commerciale ti invito presso di me, ti faccio un regalo, ti faccio un omaggio al di là della possibilità ovviamente di fare un cross-selling, una vendita abbinata subito ma comunque resta il fatto che ti rimarrà di me un'impressione positiva e tu probabilmente quando dopo dovrai scegliere un'attività analoga alla mia magari io sarò il primo che ti viene in mente perché ti ho lasciato un ricordo positivo ho fatto il primo passo, ho fatto qualcosa di gentile nei tuoi confronti spero che a quel punto mi ricambierai. E poi fare un regalo in un'attività che è già vicina al destinatario fa sì che noi abbattiamo non solo i tempi ma anche i costi, l'impatto ambientale di un regalo spedito. Beriflip può essere scaricato sotto forma di app può essere navigato da web sotto forma di web app e comunque per qualsiasi tipo diciamo di informazione per capire bene come funziona la piattaforma c'è il sito che è beriflip.com i profili social principali quindi Facebook, Instagram, LinkedIn siamo abbastanza ben posizionati in rete quindi è abbastanza facile trovarci.